L'Abruzzo cambia colore. Insieme ad Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, la nostra regione da zona gialla diventa zona arancione, il livello intermedio di restrizioni. È quanto deciso dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. E la decisione non è in base al solo numero dei contagi, ma tenendo in considerazione 21 parametri introdotti con un decreto ministeriale del 30 aprile. Questi parametri sono divisi in tre categorie. Ci sono indicatori sulla capacità di monitoraggio, quelli sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e gli indicatori relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari. Insomma, non solo la quantità dei positivi determina il rischio, ma anche la capacità di individuarli e monitorarli, nonché la robustezza o fragilità del sistema sanitario. Dopo una settimana di zona gialla, cresce l'allerta in Abruzzo, tanto che da Roma si è deciso che anche nella nostra regione occorrono regole più rigide, che entreranno in vigore da domani, mercoledì 11 novembre. Innanzitutto saranno vietati gli spostamenti da regione a regione, ma anche da comune a comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative di salute o di altra necessità. Torna quindi l'autocertificazione, obbligatoria per giustificare i movimenti. È comunque raccomandato, si legge nell'ordinanza, di evitare uscite superflue anche all'interno del proprio comune di residenza. Rimane inoltre il coprifuoco, dalle 22 alle 5 del mattino. Chi varcherà i confini comunali o si farà trovare in giro di notte senza un motivo ritenuto valido potrà incorrere in una multa che va dai 400 ai 1000 euro, che può aumentare fino a un terzo in caso di reiterazione. Stessa cosa per chi esce di casa mentre è in quarantena precauzionale in attesa dell'esito di un tampone. Chi invece ha contratto il Covid ma non rispetta le restrizioni può incorrere in una sanzione penale con l'arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un'ammenda da 500 a 5000 euro. In questi casi si può arrivare anche alla denuncia per epidemia colposa. Da domani chiuse mostre e musei, chiusi anche bar e ristoranti sette giorni su sette. Questi potranno lavorare solo per l'asporto fino alle 22 o per le consegne a domicilio senza alcun limite di orario. Possono invece rimanere aperti i parrucchieri, barbieri, ma non i centri estetici. Aperti anche le librerie e cartolibrerie, negozi di computer, elettronica ed elettrodomestici, di articoli sportivi e biciclette, concessionarie di auto e moto, i negozi che vendono prodotti per la pulizia della casa e per la cura della persona, le ferramenta, i fioristi e i vivai, i negozi di animali ed i negozi di giocattoli e vestiti per bambini. Chiusi centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, salvo che per farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Chiuse le università, salvo che per alcune limitate attività che riguardano matricole e laboratori. Chiuse le scuole superiori, che dovranno ricorrere alla didattica a distanza, salvo che per portatori di disabilità e in caso bisogna usufruire di laboratori. Mentre gli alunni delle scuole dell'infanzia, di quelle elementari e di quelle medie, continueranno a recarsi in classe. Inoltre, come era già previsto da un'ordinanza regionale, i mezzi pubblici potranno riempirsi solo la metà della capienza prevista dalla carta di circolazione, fatta eccezione per il trasporto scolastico. Chiuse sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine, non si potrà giocare nemmeno alle macchine situate nei bar e nelle tabaccherie. Rimangono chiusi anche teatri e cinema, terme, palestre e piscine. Possono però rimanere aperti i centri sportivi.